La parzelletta di Geppo Siamo fuori una scuola C'è stanno ste mamme coi sub che portano i figli Fanno entrare i ragazzini in classe E a un certo punto si fermano lì fuori a fare un po' di capannello A chiacchierare E un po' di doppia fila E poi tutte ste donne tutte accessoriate Rolex e borsa de Witton A un certo punto una sta a parlare con l'altra E gli fa così, camano così Insomma no che bello Senti ma tuo figlio poi gli ha terminati gli studi? Quello fa sì, sì assolutamente sì Pensa adesso è foto stylist e creative director Ah, e precisamente cosa fa? Se fai selfie al bagno La staglia dei gladiatori Dimensione suona Roma Il ritmo della capitale